E di un morto e tre feriti, tra i quali una bambina di appena 7 anni, il bilancio di un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 giugno, lungo la provinciale 69 che collega Mesagni a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. A perdere la vita una donna di 65 anni, Luisa Calò, originaria di Erchie, molte sul colpo, nello schianto tra una Renault Scenic ed una Fiat 500. L'impatto mortale si è verificato in località Viscigli, a pochi chilometri dalla città di Mesagni. La vittima viaggiava a bordo della Renault in compagnia di altre tre persone, un uomo, una donna e una bambina di 7 anni, componenti dello stesso nucleo familiare, rimasti feriti. Per causa ancora in corso di accertamento, l'auto si è scontrata con la Fiat 500 che proveniva dalla direzione opposta, guidata da una donna di Torre Santa Susanna, rimasta illesa. Coinvolta nell'incidente, anche una terza vettura, una BMW. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Assieme ai sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori ad estrarre gli occupanti del veicolo dalle lamiere, gli agenti della polizia locale di Mesagne e quelli della polizia di Stato che hanno effettuato i primi rilievi sul luogo dell'incidente. Ancora tutta da chiarire la dinamica dello scontro frontale, tra le ipotesi al vaglio quella di un sorpasso azzardato.